Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e fantastico video della serie scusa ma adesso te lo faccio e questo è il secondo episodio oggi il ragazzo che mi ha chiesto il disegno si chiama Silvano e mi ha chiesto il grande Lupin è una vita che non disegnavo Lupin sarà all'incirca una decina d'anni quando ero un ragazzino mamma mia quanti ne ho disegnati tra Lupin, Jigen, Fujiko mamma mia vi ricordo di lasciare un bel like se no poi vi dimenticate, vi rompo un po' le scatole così me lo mettete subito il like e ora vi lascio a questo disegno e ci vedremo dopo che sarà finito ragazzi ciao 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 e anche oggi un nuovo disegno della serie scusa ma adesso te lo faccio è stato completato il grande lupin guardate ragazzi vabbè che mi è stato chiesto da silvano e lo ringrazio anche per la tanta pazienza che ha avuto ad aspettarlo ma anche tutte le altre persone che stanno ancora aspettando i miei disegni scusatemi ancora abbiate un po di pazienza che prometto a tutti che man mano li porterò tutti i disegni che mi avete chiesto e anche oggi questo video si conclude qui come sempre se vi è piaciuto lasciate un bel like non dimenticatevi di iscrivervi al canale e per rimanere aggiornati attivate questa benedetta campanella e ci vedremo in un nuovo e prossimo video ciao ragazzi l'ho trovato si ora lo prendo arrivo ciao i'm gonna love you